Matteo, stai riscaldando la voce? Sì Ok, dimmi tu quando sei pronto Sono pronto ora Bravo Ora Matteo, mandiamo la base e tu canti, va bene? Sì Al tre, sei pronto? Sì Uno Due Tre Base Asserò dover essere il dubbio ammettico Contemporaneo come uomo del mio litico Nella tua gabbia due per tre Mettiti comodo Intellettuali di caffè Internetologi Socionorani, gruppo dei selfisti anonimi Intelligenze del modè I spot facili, di lemmi inutili Ah, 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 c'è il caso Tu sei che sì L'orerebbe un finale per altri Tu sei che sì Comunque pari a passerei Enzi, mini, mini, mini